Ciao a tutti! La settimana scorsa abbiamo introdotto il discorso di salubrità degli ambienti, parlando delle muffe, degli effetti nocivi sulla nostra salute, delle cause e delle soluzioni. A queste soluzioni possiamo aggiungere il risparmio energetico dovuto alla dispersione di calore, isolando le pareti termicamente. Le soluzioni sono veramente diverse, tra cui abbiamo materiali ecosostenibili ed analergici. Fra i tanti quesiti che ci avete posto, prevale la paura di dover risolvere con un cappotto interno, riducendo notevolmente lo spazio a vostra disposizione, o addirittura di limitarsi della scelta dei colori e delle vellature. Come abbiamo sempre detto, le soluzioni sono tantissime, sia per la soluzione dei problemi, sia per soddisfare le vostre esigenze. In una delle tante consulenze che abbiamo fatto, praticamente i proprietari hanno contattato un loro vicino, un tutto a fare, per la soluzione dei problemi di muffa in casa. Secondo voi ha risolto il problema? Vuoi veramente risolvere il problema? Allora, prenota una consulenza gratuita, ma sbrigati, perché come abbiamo detto ne facciamo solo 5 settimane, e vi garantisco che le richieste sono veramente tante. Ciao!